Ciao a tutti, buonasera e benvenuti al rientro del Dopocena Live Ciao Anna Ciao a tutti, ciao Michi benvenuti, ben ritrovati ecco siamo molto felici stasera di essere di nuovo in diretta qui con voi la settimana scorsa purtroppo non siamo state bene insomma abbiamo avuto qualche problema di salute e abbiamo dovuto purtroppo rinviare la diretta con Sonia Sonia Campa che recupereremo presto e ora che va tutto meglio insomma siamo di nuovo qua, non manchiamo grazie per vedo che vi state già collegando ciao a tutti sì ciao a tutti, benvenuti, ben trovati anche stasera siamo riusciti a partire puntuali anche stasera e come ha anticipato Anna grazie alla disponibilità di Sonia Campa la diretta Dopocena Live Gatto Contatto che parla appunto del contatto fisico con il gatto è stata riprogrammata per lunedì 13 marzo adesso vediamo se riusciamo a mandarla così non lo facciamo mai perché tutte le dirette del Dopocena Live solitamente sono programmate volta per volta proprio per dare modo agli ospiti di gestire eventuali imprevisti con noi, con l'organizzazione però questa volta era doveroso visto che Sonia è stata veramente così gentile così disponibile e quindi ringraziamo lei la vedremo appunto il lunedì 13 marzo e ringraziamo soprattutto voi per la pazienza e stasera saremo live come avete letto nelle anticipazioni in compagnia di uno dei nostri pilastri che è proprio un pilastro portante del Dopocena Live che è David, David Morettini per una serata che è proprio di riflessione su una tematica che è piuttosto centrale nella relazione con il cane e poi durante la serata scoprirete un pochino le varie sumature, le pennellate, le suggestioni che David ci vorrà dare e che anche noi vogliamo focalizzare con Anna gestendo questo argomento stasera gestire situazioni conflittuali fondamentalmente all'interno di una relazione e quindi il conflitto quello che fa tanta paura anche nelle relazioni umane trovare la strada giusta per un confronto e quindi poiché è valore a questo a livello educativo Anna è proprio il focus di questa sera abbiamo qualche problema di connessione ci dovete scusare come sempre siamo un po' in emergenza tra la Sardegna e Parma però cerchiamo come sempre di gestire tutto infatti sì il problema più che altro della mia linea comunque ricollegandomi appunto a quello che diceva Michela appunto dicevamo non è facile gestire i conflitti né appunto dare i giusti input né tra umani e tantomeno ancora più difficile può essere con i nostri cani ma per tante differenti ragioni in realtà anche per limiti di tipo comunicativo per la gestione emotiva anche di alcune dinamiche e valuteremo proprio insieme quella che può essere la chiarezza di un'alternativa alla luce dell'approccio cognitivo versus approccio addestrativo e Davide è già stato tra l'altro nostro ospite in tantissime altre dirette precedenti e sempre nei nostri dopo cena live che potete vedere sempre in differita tutte visibili sulle nostre pagine facebook di vienicommè.org essere cane centro cinofilo e semplicemente vi invitiamo a cercarle anche digitando la parola David Morettini nel motore di ricerca nella sezione video delle nostre pagine facebook e poi ricordiamo anche che per chi volesse seguire e recuperare gli appuntamenti precedenti che sono veramente tantissimi dei nostri dopo cena tutte le dirette precedenti sono visibili anche sul canale youtube vienicommè.org senza punto dove trovate tutte le dirette precedenti di dopo cena live quindi semplicemente vienicommè.org senza punto è importante perché riuscite anche in questo modo a collegarvi a vederle a vederle tutte ecco per chi volesse è possibile anche questa opzione esatto hai fatto bene a ricordarlo Anna perché non tutti amano i social e non tutti hanno i social quindi per fare un'altra parola che alla fine è lo strumento più efficace è importante dare anche delle alternative valide benissimo allora esatto david quindi lo avremo tra noi e tra qualche minuto giusto Anna? sì eccolo tra un po' si collegherà e l'argomento tra l'altro di cui daremo cenni questa sera quindi no sui no che aiutano a crescere rientra proprio tra i webinar presentati da Davide Morettini quest'anno e anticipa un webinar di approfondimento che Davide svolgerà con vieniconme.dog che si svolgerà esattamente martedì 21 marzo per cui le iscrizioni sono già aperte per questo webinar quindi stasera avremo qualche spunto di interesse intanto mandiamo il banner poi come vi ricorderemo dopo la locandina e l'evento verranno pubblicati tra domani e il fine settimana anche se le iscrizioni comunque sono già aperte e ne stiamo già ricevendo però in realtà i webinar che faremo con Davide nel mese di marzo 2023 sono due e tanti di voi che ci seguono già lo sanno sanno esattamente di cosa parliamo perché la diretta bellissima del 15 dicembre sull'arte della sincronia quella che parlava sul tempo del tempo una questione di tempo ha dato uno spunto o più che altro ha fatto nascere un desiderio di approfondire questa tematica e quindi il primo webinar con David che faremo con vienicome.dog sarà lunedì 6 marzo una questione di tempo dalle 20 e 30 alle 22 e 30 e poi come anticipava Anna martedì 21 marzo i no che aiutano a crescere che è un webinar che David sta già portando sul web con grande successo dalle 20 e 30 alle 22 e 30 potete sempre iscrivere all'indirizzo email vienicome.dog chiocciolagmail.com per chiedere informazioni o per iscrivervi stiamo rispondendo man mano a tutti come anche tutti gli altri colleghi che si dedicano alla divulgazione gratuita e anche alla formazione sul web anche noi lanciamo questo messaggio bisogna scrivere l'email questo è l'unico modo e soprattutto avere tanta pazienza perché tutti quanti riceveranno la loro risposta benissimo se vuoi pubblicare sì dicevamo anche che e vogliamo anche ricordare che per chi fosse invece interessato o anche interessato a partecipare a webinar sul set traumatico con Elisabetta Mariani vi informiamo che sono rimasti gli ultimissimi posti disponibili ecco sempre scrivendo all'indirizzo vienicome.dog chiocciolagmail.com per richiedere informazione e iscriversi benissimo sì quindi questo possiamo mandarvi già la locandina che magari già conoscete il webinar sarà in due serate e soprattutto è un webinar inedito Elisabetta Mariani lo farà diciamo con vienicome.dog per la prima volta e probabilmente sarà anche l'unico caso in tutto l'anno di webinar perché è veramente molto molto impegnativo ed è frutto dei suoi ultimi studi intanto salutiamo anche chi si sta collegando salutiamo Cinzia Barillaro che è stata nostra qualche puntata fa insieme a Manuela Macelloni grazie grazie mille per essere con noi Cinzia e benissimo allora noi come nostra consuetudine ringraziamo tutti voi che state continuando a mandare le foto del vostro cane o del vostro gatto prometto che lo correggo questo banner o del vostro gatto per la nostra sigla che ogni volta viene aggiornata con le foto che ci inviate o comunque con delle immagini particolari che magari ci riportano al periodo che stiamo vivendo quindi questo è sempre l'indirizzo email ne aspettiamo tante e ringraziamo chi insomma ha già partecipato e continua a partecipare a questa nostra iniziativa a questa nostra proposta Anna cosa dici? è giunto il momento della sigla il momento della sigla vai Michi andiamo la sigla eccola qua benissimo eccoci nuovamente qua Anna ok perfetto speriamo che la connessione ci aiuti questa sera ci riproviamo ci riproviamo nel frattempo è riuscito a collegarsi con noi anche David e quindi gli diamo il benvenuto online David ciao ciao ragazze ciao a tutti e a tutte grazie bentornato grazie a voi benissimo Anna ci sei anche tu riesci a vederci ok perfetto io vedo solo te per ora ciao David anche se non ti vedo ciao ciao Anna i misteri della connessione benissimo allora siamo molto contenti di essere riusciti a riprendere stasera insomma aver ripreso salute e di poterlo fare soprattutto con David anche perché è una serata che dà delle pennellate come dicevamo un po' più approfondite riguardo a una tematica che si affronta anche poco quindi adesso poi scoprirete tutto quanto durante la serata come sempre voi conoscete tutti quanti David però io e Anna abbiamo sempre il piacere per chi ancora non segue il Dopocena Live o non conosce gli ospiti che sono con noi di presentarli tutte le volte quindi David Morettini è una persona a cui noi siamo tanto legate perché è stato nostro maestro nostro docente abbiamo avuto modo di essere formate da lui e di conoscerlo di persona e vederlo in campo anche sin dai primi suoi cani sin da Mina e dai tempi addietro dei suoi primi cani Davide è educatore è istruttore cinofilo ed è formatore è laureato in filosofia teoretica presso l'Università di se mi vedete ancora forse c'è nuovamente la linea ok perfetto siamo tornati la laurea in filosofia è un filo conduttore che sta accompagnando un po' il Dopocena Live con tanti ospiti con Simone con Simone Dallavalle Flavia Pisciotta Manuela Macelloni c'è un po' in tutti quanti questa matrice abbiamo scoperto con piacere Davide ha formato la propria esperienza professionale fuori dai campi di addestramento e dalle discipline sportive cinofile e da questa esperienza appunto deriva la sua filosofia di integrazione totale dell'animale nella società umana da un punto di vista professionale la sua specializzazione sono i problemi comportamentali in particolare quelli legati all'aggressività intraspecifica eterospecifica e eterospecifica e anche le fobie sociali e diciamo che è conosciutissimo con il suo format di Michi 6 e poi di Michi 7 con cui ha girato tutto il territorio nazionale è incentrato sull'attenzione e il rispetto della soggettività del cane e appunto è da tanti anni che gira l'Italia con il suo staff con questo format molto conosciuto e offre momenti formativi di altissimo livello oltre poi tutti i webinar che grazie a Dio da quando è iniziata anche l'era della formazione online David trova il tempo di creare di proporre di presentare con insomma con tanta disponibilità e generosità sempre quindi adesso aspettiamo anche che Anna si ricolleghi che sicuramente ha avuto qualche qualche problema di connessione e nel frattempo per introdurre eccola eccola qua eccola qua ciao mi sentite ho provato dal cellulare vediamo se ce la possiamo fare si vede meglio si vede meglio ora così muti così muti ok ok eccoci qua perfetto allora anche a nome di Anna do quindi il benvenuto a Davide ancora una volta ringrazio voi diamo l'inizio al dopo cena live di stasera con una piccola postilla che sarà una sorpresa anche per David perché David in realtà i no che aiutano a crescere se non sbaglio si tratta di una citazione questo titolo magari a qualcuno suona un po' conosciuto e forse si tratta di una citazione che probabilmente è collegata a questo libro di diversi anni fa che probabilmente tante persone hanno letto cosa ci dice Riccardo ecco ti riesci a sentirci? io si mi sento e Anna forse che non si è saltata eccola c'è di nuovo prego è quello il libro da cui ho tratto ispirazione per il per il titolo che è stato un po' questa un assist che ho preso perché perché è stato un libro che ho letto ben prima di diventare padre ed è stato come dire un un elemento che mi ha consentito di introdurre all'interno di quello che è l'approccio cognitivo zoo antropologico cognitivo relazionale come volete chiamarlo una tematica importante che definirei quasi una tematica tabù io per chi mi conosce anche nella vita privata tendo ad avere una curiosità piuttosto bambinesca sulle cose quindi a volte anche un entusiasmo di questo tipo e soprattutto amo davvero come dire il pensiero critico e la radicalità della critica e del pensiero critico e quindi cerco sempre di andare e di approssimarmi a quelli che sono dei temi che possono essere per certi versi scabrosi quello dei no quello dei comunque di un aspetto relazionale che fa parte di tutte le nostre relazioni profonde le relazioni con il cane le relazioni con i figli le relazioni con un partner o una partner ci sono dei momenti di scontro le relazioni educative tra i professori gli insegnanti e gli alunni c'è sempre nella relazione la possibilità di uno scontro e nel momento in cui la relazione è di carattere pedagogico e quindi c'è questa in parte asimmetria per cui non siamo partner nel senso stretto del termine ma c'è qualcuno che socialmente e eticamente moralmente ha la responsabilità di essere guida e quindi questo scontro si declina nella necessità nella possibilità nella opportunità di mettere dei paletti di mettere dei confini di chiudere delle opzioni nell'espressione dell'altro nell'espressione del se dell'altro e quindi nel ruolo della genitorialità e nel ruolo della pet ownership o di essere il pet mates anche qui c'è come dire su questo termine che in parte io sto utilizzando per esempio negli articoli di Kodami e che comunque si sta facendo largo nel come dire nel vocabolario anche cinofilo cioè questo inglesismo per cui chiamiamo il proprietario del cane perché che finora era stato siamo stati definiti così quelli che avevano che adottano un cane che possiedono un cane vedete non c'è proprio un come dire un linguaggio probabilmente ancora adeguato e capace di descrivere appieno quella che è la relazione che abbiamo con un cane dentro alla relazione genitoriale dentro alla relazione che ci lega ad un cane noi abbiamo in qualche modo la possibilità la necessità il dovere direi a volte di mettere uno stop di scontrarci di dire no questo tu non lo puoi fare te cane non lo puoi fare te figliolo o figliola non lo puoi fare e questo si sintetizza con il no però questo non è così semplice cioè è un discorso che probabilmente veniva dato per scontato tanti anni fa diciamo per quasi tutto il tre quarti del del novecento questo problema non si poneva nella rielaborazione di alcuni principi pedagogici quindi sia in ambito umano che in ambito cinofilo ecco che nasce come dire una problematicità su se c'è questa possibilità cioè se è giusto che io stoppi che io dica no che io mi opponga a un essere di cui ho responsabilità nella sua espressione di sé e questo per certi versi va a toccare come dire delle corde strane perché perché è quasi un tabù perché è molto equivocabile è molto a confine con l'esercizio dell'autorità e chi come dire sposa una pedagogia di carattere progressista una pedagogia di carattere libertario o una pedagogia cinofila come quella cognitivo zoantropologica si pone giustamente il problema del se è lecito optare no per questa possibilità del diliego del dire no dell'opporsi quindi ci troviamo su un terreno molto scivoloso perché è esattamente il punto insieme a quello che poi abbiamo affrontato insieme anche nel un doposcena live in un webinar cioè l'evolversi del concetto dalla dominanza alla leadership ecco che noi ci stiamo affacciando da quello che è la comunicazione assertiva in quello che è un aspetto che lambisce degli elementi dell'addestramento ma li lambisce in senso di topics di argomento perché poi come vedremo nello svilupparsi di questa dopo cena live di questa intervista come si differenzia diciamo la mia posizione però ecco stiamo entrando in un ambito come dire scivoloso ancora non definito dopo tanti anni di approccio cognitivo ancora non definito io mi assumo la responsabilità di essere stato tra i primi e forse tra i pochi che hanno avuto il coraggio di andare a aprire questa stanza a cercare di fare luce su questo aspetto senza girarci intorno perché questo fa parte diciamo del mio carattere non amo le bugie non amo le ipocrisie e amo molto la trasparenza amo molto ci credo tanto credo che le relazioni umane e le relazioni in generale debbono essere basate sul coraggio di far luce su tutto anche su quelli che sono degli aspetti che in fondo possono essere difficili da affrontare questo è uno dei motivi che mi porta spesso a scontrarmi anche con la mia compagna o con i miei amici perché io amo essere diretto quindi su questo dire ok qual è il problema si può dire no o non si può dire ed ecco perché ho preso in prestito questo titolo perché in qualche modo cerco di corazzarmi con dei precedenti storici per riuscire a muovermi dentro a questo argomento spero di farlo insieme a voi in maniera comprensibile bene Anna sì ascoltavo infatti l'intro di David che ci ha già anticipato dei concetti molto importanti ecco David quindi con i no i no che aiutano a crescere quindi noi possiamo dire si intende che esiste la possibilità di un dimiego cioè la possibilità di vietare qualcosa a qualcuno un altro individuo in particolare al cane in questo questo porta a un processo di crescita quindi si può dire questo che cosa intendi nel dare la possibilità di negazione per aiutare un soggetto a crescere scusate ci sono tante tanti modi in cui potrei risponderti no cioè perché si sente la necessità di parlare dei no di questo aspetto della relazione e perché si pensa che avere la possibilità e la capacità di dire questi no porti ad un miglioramento porti ad una crescita come dice il titolo della Asha Phillips che aiutano a crescere e io penso che crescere significa confrontarsi con l'altro credo veramente che se c'è un elemento di forte novità nella cultura attuale e appunto chi mi conosce sa quanto credo e investo nei progressi della cultura cioè in quello che la cultura può in termini di rivoluzionare i valori no l'identità il soggetto io l'io non è una astrazione teorica e basta quando la concepiamo come qualcosa di strettamente personale cioè l'io non è solo di se stessi cioè la nostra identità è relazione tutti gli oggetti della realtà sono relazione non esiste nulla che non possa essere in relazione la sedia su cui siedo è relazione in quanto quella forma è tale e quell'oggetto è tale perché io mi siedo se non mi sedessi e non ci fosse questa opzione dell'essere umano di stare nella posizione seduta la sedia non esisterebbe come concetto come oggetto quindi qualsiasi cosa è relazione e è relazione l'io in modo estremamente più complesso di una sedia ok allora se l'identità di un essere sociale come l'essere umano è la relazione lo è anche per il cane perché è un animale sociale probabilmente in grado maggiore rispetto all'essere umano perché forse per lui il legame viscerale fisico con gli altri con gli altri della sua specie e con questa tendenza ad uscire attraverso l'affiliazione dalla sua specie per tendere verso l'essere umano e viceversa perché è viceversa e lo fa un essere in relazione la un'identità che si costruisce nell'essere in relazione con gli altri trova nell'altro un'opportunità ma trova nell'altro un limite perché io non posso fare quello che voglio perché ci sono gli altri e in un cerchi concentrici progressivamente meno densi e meno complessi cioè più difficile è il confronto con gli esseri con cui sei legato affettivamente che ti sono più prossimi ecco quei soggetti che ti sono più prossimi sono quelli che ami ma sono quelli che pongono di più un problema all'espressione di te ti pongono un limite questo è come dire il grande dilemma e il grande paradosso degli esseri sociali la relazione costituisce libertà e espressione ma allo stesso tempo costituisce un limite e quando si è in relazione con gli altri si hanno dei limiti e questi limiti quando se noi ci pensiamo che cosa si genera in noi quando vogliamo fare qualcosa non lo possiamo fare si chiama frustrazione di base la frustrazione è un aspetto psicologico che pesa veramente tanto sull'individuo sia che sia un essere umano sia che sia un cane il guinzaglio il cane vuole scendere dal marciapiede e andare verso un altro cane il cane vuole raggiungere un odore più velocemente di noi il cane vuole andare a destra e noi vogliamo andare a sinistra il guinzaglio è la forma più evidente di una relazione che si basa sul diniego si basa sulla limitazione della libertà quindi il guinzaglio è il primo argine il primo punto dove il soggetto cane sbatte nell'espressione di sé e non lo può fare questo genera frustrazione la frustrazione è un come dire evento psicologico che ha un gradiente che può essere misurato quanto sono frustrato tanto poco e allora il no che una figura guida e una figura pedagogica ha nella nostra vita quindi i primi argili che vengono messi alla nostra espressione di volontà di iniziativa sono fondamentali perché ti insegnano a gestire la frustrazione e qui vedete che siamo su un terreno molto molto scivoloso no perché perché non c'è niente che io condivida di meno che esercitare il no come dire tecnicamente per abituare il soggetto ad accettare faccio un esempio hai un bambino o hai un cane piccolo il bambino piccolo o il cane piccolo cucciolo vuole venire vicino a te da piccoli hanno un esplorazione anarchica in qualche modo vogliono andare vogliono esplorare il mondo e allora quello che si fa è perlomeno quando sono cresciuto io nei primi anni 80 io sono del 79 metti il bambino nel box o metti il cane nel kennel e perché perché così si abitua a avere una limitazione della libertà e tu le guadagni in termini del fatto che quel soggetto è recluso e quindi non ti rompe le scatole ok oppure devi lasciare il cane da solo in casa devi far sì che il bambino dorma nel suo lettino no sono due paralleli allora che fai tu come dice un libro dal mio punto di vista veramente non condivisibile esattamente come tanti aspetti dei no che aiutano a crescere di cui io prendo in prestito prendo l'assist della parola ma del come dire del titolo ma in realtà io condivido ben poco di questo libro se non il titolo però in quel libro che si chiama famosissimo fate la nanna si dice di abituare il bambino a dormire da solo mettendolo in un lettino vicino a sé e piano piano creare dei momenti di distacco cioè fare un esercizio del no cioè tu eserciti il soggetto a non poter esprimere la volontà sua di stare vicino a te allora io credo che i no non possano essere costruiti a tavolino non debbano essere costruiti a tavolino perché cercando come dire facendo emergere il no come orizzonte strutturato e programmato nella vita dell'altro questo non costruisce autonomia e non costruisce accettazione di quella condizione ma costruisce una situazione distorta di frustrazione un bambino che gli viene imposto sil da piccolo e quando è troppo piccolo di stare staccato da te tu non lo stai abituando a stare da solo tu lo stai come dire focalizzando sulla voglia di stare con te cioè tu non così non costruisci abitudine tu costruisci un problema costruisci una focalizzazione su un evento creandolo come problema non c'è un'abitudine un soggetto non si può abituare a piegare la sua natura se tu pieghi la natura di un soggetto tu lo porti a avere una visione distorta di quella relazione allora vuoi il distacco attacca attacca in modo sano perché quel soggetto avrà voglia di distaccarsi perché ogni soggetto ha voglia di distaccarsi ogni soggetto ha voglia di raggiungere la sua autonomia certo è che nel dire attacca attacca in modo sano perché se io attacco come dire creando delle proiezioni affettive evidenti eccessive cioè quella vicinanza la vuoi te come adulto perché ti manca a te qualcosa vuoi il cane sempre attaccato a te perché ti manca a te qualcosa tu vuoi dal cane delle sicurezze allora quello non è un attaccamento sano io ti offro la mia compagnia la mia vicinanza perché penso che a te in questo momento vada bene così ti serva questo e nel frattempo lavoro in tutte le occasioni perché tu abbia fiducia in te stesso e di distaccarti da me ecco che allora quel soggetto ti dirà vai pure perché io sto anche senza di te ok allora coi no si insegna al cane a gestire la frustrazione tuttavia questi no devono emergere da un tessuto relazionale che è tutto indirizzato verso l'autonomia tutto indirizzato verso la fiducia allora quei no danno un supporto alla gestione della frustrazione ma se i no io li costruisco tecnicamente aprioristicamente come tecnica io non sto facendo gestire la frustrazione ma sto creando una distorzione di quella di 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 sentimento di quella emozione che è molto difficile anche per noi adulti da gestire proprio perché siamo esseri sociali grazie david prima di andare avanti se siete d'accordo davide anna io manderei una domanda di francesca pirani Anna la vuoi leggere tu si francesca dice troppa frustrazione genera rabbia e o inibizione una giusta frustrazione dando un limite tollerabile può aiutare la capacità di superare i problemi e la creatività ma come capire qual è il giusto limite allora su questo su questo sarà proprio oggetto del webinar che ha sempre su questo ci teniamo con Anna e la Michela di sottolinearlo sempre cioè questo è un dopo cena live e qui introduciamo in qualche modo gli argomenti e quindi non possiamo e non abbiamo il tempo di entrare troppo nello specifico però la domanda è molto giusta ed è esattamente uno dei focus che svilupperemo nel webinar là il no costruito come vi stavo dicendo poc'anzi cioè tecnicamente con freddezza come se fosse come dire una tabellina di marcia che io devo impostare a prioristicamente no siccome il cucciolo c'ha tre mesi allora adesso devo iniziare i distacchi fatti di quindici minuti poi di venti minuti poi di mezz'ora ma non li faccio andando a guardare il soggetto come sta in quel momento se in quella fase evolutiva per quel soggetto il distacco è opportuno oppure no vado a prendere come dire una tabellina di marcia che omologa tutti i soggetti e allo stesso modo vado a dare dei no che non hanno senso di esistere questo vale soprattutto nell'esplorazione allora alleniamoci a dare a vedere se la legittimità del no è tale soprattutto dove il momento esplorativo del soggetto il cane il bambino vuole esplorare il mondo nell'esplorare il mondo costruisce la sua autonomia cioè va a lontano da noi si allontana progressivamente e va a relazionarsi per l'appunto e costruisce la sua identità relazionandosi con il mondo però occhio perché qua la maggior parte delle persone è vittima di ansia da controllo e quindi tu vai a dare il no quando non è necessario quando non ci sono ragioni legittime perché tu quel no lo dica e nell'esplorazione ma guardate che la maggior parte dei problemi di iperattività dove con iperattività non parlo di patologie parlo di soggetti agitati parlo di bambini scalmanati e di cani esagitati la causa principale è l'inibizione è il fatto che tu a quel soggetto non gli hai consentito di esplorare il mondo in serenità e allora hai costruito una gabbia di contenimento data magari non dal quinsaglio ma dai tuoi richiami dai tuoi continui appunti dai tuoi continui non andare qui non andare di là non fare questo non fare quell'altro attenzione che non correre che sudi non ti buttare a terra che ti sporchi no 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 e in quel momento non c'è bisogno che tu lo dica e allora il no da gestione sana della frustrazione può diventare inibizione ma perché perché è focalizzazione quando è che un no e il tuo diliego passa da gestione sana della frustrazione a inibizione quando tu stai focalizzando quando tu focalizzi su un problema che non esiste e quindi focalizzi su un'azione che il soggetto andrà a reiterare proprio perché vede che a te quella cosa preoccupa allora lì si entra in un aspirare malsana dove i tuoi no non sono legittimi e la reazione del soggetto bambino cane che sia diventa una reazione competitiva risurre rispetto alla tua ansia tu non vuoi che io alluso a terra bene allora alluso perché tu mi hai detto che quella cosa è importante e tu mi hai detto che quella cosa è così importante che io non posso malvicinarmi e perché che cosa c'è in tutto questo che non va allora aspetta che vada a vedere no non lo fare allora questa cosa è importante allora vedo che ti coinvolgi questa cosa vedo che ti tira in mezzo e il soggetto va in deriva e voi mi dite perché fa questa cosa che non è sana ma perché il tuo non non è sano stai focalizzando il bambino che mette le dita nella presa della corrente e il cane che prende da terra qualcosa ma siamo sicuri che un cane che etologicamente biologicamente è uno spazzino cosa da terra sta male se beve l'acqua dalle pozzanghere muore no non è vero punto poi può esistere la sfiga ma questa esiste a prescindere dalle tue intenzioni dalle tue preoccupazioni ok allora se un bambino oggi avvicina le mani alla presa della corrente non vuol dire che sarà capace di infilare due dita perfettamente precise nei buchi arrivare al contatto elettrico e prendere la scossa è una fandolia è una preoccupazione inutile ciò non vuol dire che non sia possibile ma osserva perché se in quella presa della corrente c'è già una spina inserita ed una spina che tu adulto fai fatica a inserire e a estrarre tu mi spieghi il bambino come può prendere la corrente non può a meno che non ci siano fini scoperti allora giustali però se tu fai così tu vedrai che il bambino andrà a cercare solo le prese della corrente e ti indurrà continuamente a controllarlo la stessa cosa quando non vuoi che annusi fazzoletti a terra e il cane alla lunga ingerirà i fazzoletti allora quello solo focalizzazione quindi quello è un'inibizione perché tu stai inibendo la possibilità libera di prendere l'odore di un fazzoletto che ha materia organica esattamente come mi sono adesso soffiato il naso io ha un odore quel liquido organico e allo stesso modo un oggetto come la presa della corrente che ha altezza di un bambino è un target che il bambino ci si vuole avvicinare ma se tu lo focalizzi quell'oggetto non ha nessun interesse e bambino tempo due volte non ci andrà più però questo lo affronteremo come dire nello specifico nel webinar e vi spiegherò i passaggi per arrivare all'inibizione e come evitarli grazie david questo è un punto fondamentale che Francesca ha anticipato con questa domanda appunto poi lo vedremo meglio al webinar però permettimi un inciso anche a nome di Anna credo a nome di tutti anche noi ci caschiamo sempre perché poi alla fine sono cose che bene o male alla fine poi impariamo a capire a riconoscere come meccanismi per ogni volta ci caschiamo e diciamo no anche questa volta ci sono cascata però vabbè la focalizzazione poi la affronteremo meglio però è estremamente importante prima di andare avanti con un mio piccolo inciso prima di dare di nuovo la parola ad Anna leggerei se siete d'accordo il commento di Paola Zaccari che scrive credo che insistere sul distacco precocemente crei incomprensione emotiva non deve essere edificante non essere riconosciuti nei bisogni quindi si collega a quanto dicevi tu prima dell'attaccamento anche in modo sano mi sembrava importante leggere questo commento di Paola prima di andare avanti permettimi però abbiamo dei tempi stretti e ti vogliamo fare un sacco di domande David ma secondo te cioè tu credi che questa problematica sia pienamente connessa alla cultura di questi tempi cioè per i nostri avi e i nostri nonni probabilmente questa affermazione e tutto ciò di cui stiamo parlando non era neanche una domanda da porsi c'erano comunque delle conseguenze anche all'epoca o c'era una capacità maggiore di gestione della frustrazione cosa ne pensi tu? è assolutamente una tematica super attuale perché mia nonna non si voleva nemmeno ma nemmeno mia madre non si voleva minimamente l'idea se fosse giusto o meno dirtilo e dirtelo in una maniera aggressiva non c'era questo non c'era nei maestri non c'era nei genitori quindi ma figuriamoci poi verso un cane no e no perché lo dico io basta non c'è la possibilità di contestare e non vedo perché tu dovresti offenderti per questo perché si teneva conto di una crudezza della vita e di una come dire si dava così poco conto alle emozioni e che il no era appunto la palestra per irrubostirsi e anzi ti do dei no che superano abbondantemente la misura in modo che tu ti fai la scorza a capire che la vita è dura e dovrai trovare tu una strategia per sopportarla questo più andiamo indietro negli anni e più era una filosofia di vita questa allora io credo che il mondo occidentale il mondo ricco occidentale abbia sollevato l'essere umano da alcune necessità di di base grazie a una ricchezza in parte diffusa e questa questa condizione economica e sociale ha portato a dare maggiore attenzione probabilmente al soggetto al soggetto nella sua sfera no emozionale ed emotiva e e questo non è affatto sbagliato perché effettivamente se ci pensiamo ciò che ci fa stare male solo le emozioni io facevo questa riflessione con la mia compagna proprio due giorni fa e le scrivevo un biglietto io spesso siccome ci vediamo poco durante la giornata io le scrivo spesso dei dei biglietti li accompagno anche con dei fiori spesso però vabbè lasciamo stare e e scrivevo ma alla fine cioè ci siamo sempre detti che la particolarità dell'essere umano rispetto agli animali è la razionalità cioè si dice l'essere umano è migliore in fondo l'antropocentrismo ci dice questo rispetto agli animali perché perché è capace di essere razionale l'intelligenza razionale è la caratteristica dell'essere umano secondo me questo è un abbaglio totale io credo che la caratteristica dell'essere umano sia la capacità di provare in modo profondo sfumato e articolato le emozioni che sia questo che in fondo rappresenti una qualità che discrimina forse dagli altri animali cioè proprio questa capacità di crearci delle mappe mentali e delle rappresentazioni mentali estremamente articolari e complesse di quelle che sono le nostre emozioni e di avere una sensibilità maggiore alla variazione delle emozioni e la qualità della vita ad oggi credo che nella relazione sia l'attenzione alle emozioni sia la capacità di capire che le emozioni precedono la razionalità la rendono possibile se tu sei incavolato nero se tu sei dispiaciuto se tu sei frustrato te non ragioni non ragioni bene non ti va di fare nulla si arriva poi alla depressione si arriva alla alla rabbia si arriva a un mancato contenimento delle corlicie emozionali allora giustamente ci poniamo il problema di quando dire no e se è lecito dire no perché perché andare a limitare l'espressione comportamentale di un soggetto che vuole fare una cosa e quindi il cane vuole andare lì il cane vuole saltare addosso il cane vuole il pezzo di pizza il cane vuole entrare in relazione con te o con qualcun altro e tu no ti poni il problema perché dici cazzarola ma questo gli creerà un problema poverino cioè emozionalmente avrà un contraccolpo e secondo me è giusto che tu pensi se è giusto dirglielo se è legittimo dirglielo perché perché abbiamo capito forse a livello sociale che sta proprio lì il benessere di un soggetto il nostro di nostro figlio di nostra figlia di un nostro partner e del cane allora io credo che questo non sia un come pensi a qualcuno poi non vado a definire questo qualcuno perché altrimenti mi schiero però che questa società sia rammollita che ci stiamo rammollendo perché teniamo in conto le emozioni degli altri e le nostre perché questa è forse invece la possibilità che abbiamo più forte oggi di creare un mondo che non è mai esistito prima perché non è assolutamente meglio quando si stava peggio o meglio prima perché essere vissuti in un contesto culturale sociale dove non si tiene di conto delle emozioni altrui soprattutto quando questo altrui rappresenta un margine una minoranza il bambino la donna il cane il migrante il barbone ok cioè che te ne frega se quello sta male se quello prova delle emozioni di paura di ok oggi qualcuno e tanti nella società in tanti strati culturali ci stiamo ponendo il problema che quel vissuto emozionale è importante e allora credo che una volta si asfaltavano le emozioni e si calpestavano le emozioni perché si pensava che non ci fosse un orizzonte di vita diverso dalla sofferenza probabilmente invece oggi forse siamo riusciti a farlo un passaggio tuttavia viviamo l'ipocrisia perché per quanto si stia innalzando culturalmente l'attenzione la vigilanza sulle come dire i vissuti emozionali dall'altra parte invece si stanno portando avanti degli stili di vita delle modalità di scambio e di relazione che invece vanno esattamente nella direzione opposta quindi siamo un po' dentro una forte schizofrelia una forte polarizzazione cioè se ci pensi per esempio noi vediamo sempre film violenti in tutti i film c'è violenza cruda forte ma se tu vai per la strada e alzi la voce a qualcuno come mi è successo oggi è un problema è stato il contrario qualcuno alzava la voce su di me ma lasciamo stare però si crea il panico e magari la sera vai e vedi 50 morti ammazzati ecco attenzione alle emozioni però dall'altra parte anche no anche esattamente il suo contrario però forse le rappresentazioni non nel vissuto si potrebbe andare avanti per ore andiamo adesso abbiamo un sacco di altre domande cerchiamo di stare nei tempi ma ti vogliamo chiedere anche delle altre sommature adesso ti faccio una domanda a nome di Anna Anna ti voleva chiedere ma con i no tu intendi soltanto proprio quella parola quella espressione verbale che poi ecco Anna ok che poi viene utilizzata nelle relazioni che sentiamo dire da tanti genitori da tanti proprietari ai cani proprio come se questa espressione verbale fosse la bacchetta magica una parola magica un qualcosa che subito riesce a esprimere in maniera chiara un'intenzione un'intenzione chiara che comunichi quindi con no tu ti riferisci soltanto a questo a questo tic verbale o a qualcosa che è un po' più ampio allora vi riferisco esattamente e molto di più a qualcosa di diverso dall'espressione verbale dell'o ok cioè è per questo che io quando abbiamo iniziato questa intervista ho detto ho preso in prestito questo titolo del libro per aprire un argomento perché in realtà credo che e il webbler lo vi inseglierà tecnicamente a gestire la parola no cioè sì però è marginale dal mio punto di vista perché la questione è proprio nel come gestire e quando legittimare una presa di posizione che ci porti a creare un argine a creare un diliego a creare un orientamento diverso sul soggetto cane rispetto a quello che lui vuole fare quindi non è il no perché anzi io personalmente detesto piuttosto il no io penso di non dirlo mai anche quando mi è stato chiesto perché in una delle ultime edizioni non so se sono state fatte altre di pedagogia cinofila di Marchesili c'è un appendice su delle attività evolutive e c'è questo famoso no gratificato cioè un'attività un esercizio che spiega come costruire la parola no e dire no al cane senza che questo generi una frustrazione un'elimizione ma sia un'opportunità per il cane di dire se mi hai detto no allora dimmi o comunque mi rivolgo a te per capire cosa devo fare quindi non qualcosa che inibisce chiude e porta l'altro lontano dalla dalla relazione ma qualcosa che quando emerge no allora sì ok però cosa devo fare e che non costituisca terrore no per per l'altro io in realtà io penso che non lo dico mai no perché perché quando ho bisogno di dire quella parola secca no quella io ho costruito con i miei cani e i cani dei miei clienti e i cani del canile un linguaggio più intimo più personale che non è il no e ho per esempio più sfumature di quello che è il no detto in modo diverso per esempio se i i miei cani o diciamo che tutti i cani con cui mi relaziono anche voi del canile stanno prendendo un'iniziativa per strada tipo scendere dal marciapiede tipo voler andare svoltare a destra invece vuole andare a sinistra per dire io non dico mai no ma dico e e rispetto a un'iniziativa sulla quale poi si va subito da un'altra parte cioè è qualcosa in movimento però non scendere si prosegue no ok oppure se un cane sta per andare ad alluzzare o a prendere in bocca qualcosa da terra io non dico no ma dico faccio questo verso striscio questa parola quindi se io credo che il no come parola secca sia abusata cioè sia vuota sia e in qualche modo anche poco efficace dal punto di vista linguistico non suona per arrivare veloce lì ed è un tic sociale no e quindi proprio mi dà noia io molto spesso quando sento i miei clienti o gli adottanti che prendono in mano il cane non l'hai visto e conosciuto mai ti salta addosso no tanto il cane non lo capisce perché quando dici lo tra l'altro a livello di vivica e a livello di posture cioè tu non porti mai un'intenzione vera perché quando io il cane sta per andare su qualcosa da mangiare e io ti faccio cioè anche di vivica e quel suolo arriva di più che no no che è questo non arriva non fa nulla sei isterico sei una cosa che come direlo che gracchia ecco quindi io istintivamente il no non lo dico e suggerisco di declinare in un linguaggio come dire intimo privato che può essere quello che volete ma che deve avere una sonorità efficace che si accompagna a un'intenzione e a un'espressione del corpo congrua a quell'intervento che volete che volete fare quindi io parlo di un no che è più ampio e che quindi riguarda situazioni proprio dire emblematiche ecco non andare da un altro cane anche se sei libero non come dire non saltare addosso non buttarti alla porta non abbagliare non e tutto questo non si risolve con il no ma si risolve con una progressività di comportamenti comunicativi efficaci che devono avere una uniformità e una coerenza di tutti gli aspetti dell'espressione verbale e non verbale qui sul non verbale ho suggerito poi lo vedremo nel webinar di personalizzare l'intervento con suoni i rumori più efficaci e soprattutto il corpo il corpo deve dire no non la tua voce perché la tua voce al cane non arriva in maniera efficace il tuo sguardo la tua prontezza ne abbiamo parlato l'altra volta nel nostro dopo scena live che è stato molto stimolante sul il tempismo l'arte della sincronia è quella di dire intervieni al momento giusto le prima le dopo ma esattamente in quel momento anche perché se tu intervieni esattamente in quel momento e ne abbiamo parlato sul concetto sull'intenzione più che sul comportamento allora un no una chiusura attraverso il corpo devi dire no tu lì non ci vai perché non lo fai questa cosa ma lo fai esattamente nel momento in cui il cane sta per allora quel no anche detto in maniera forte cioè che tu lo impatti proprio il cane e lo ma se è fatto in quel momento il cane ti comprende il cane ti giustifica e ti dirò se tu l'hai fatto in maniera opportuna ti accredita ma se tu quello lo vai a dire retroattivamente soprattutto il cane ha fatto la pipì in casa allora prendo il cane per la collottola lo trascino sulla pipì lo sbatto sulla pipì e poi faccio no no ma che stai facendo che fai il cane dice te sei completamente folle sei uno squilibrato mentale perché mi devi dire che cosa stai facendo adesso perché io non lo capisco ma se quello no che di nuovo vedete io quando ho avuto i cuccioli in casa se il cane sta per fare la pipì è questo è più efficace no è una starnazzata in quella maniera che il cane dice che cazzarola è questo rumore invece quel rumore di battere le mani coglie l'attenzione perché è un rumore che aiuta il cane a girarsi verso di te per capire che c'è ecco non fare la pipì andiamo fuori ti do subito un'alternativa ecco quelli è un mondo molto più vasto del l'ho detto come parola grazie david chiarissimo anna sì sì david ti volevamo anche chiedere questo però se la negazione il diniego insomma lo scontro il divieto sia che sia con un figlio che sia con il cane insomma in alcune delle situazioni ecco potesse comportare anche dei problemi ecco ci chiediamo quando effettivamente dire di no vietare potrebbe essere un problema potenzialmente allora innanzitutto sulla tempistica come ho detto ora sul fatto che tu intervieni retroattivamente i no più scorretti sono quelli che non rispettano ma in modo vuol dire consistente la tempistica giusta mi devi spiegare come fa un cane a capirti che tu ti stai incavolando e gli stai dicendo no per qualcosa che è accaduto come dire no diversi minuti se non un'ora o due ore fa il cane in casa ha tirato fuori la spazzatura e tu vai vicino alla spazzatura e lo brontoli e lo brontoli con tutti questi no e probabilmente alzandogli la voce e forse tirandogli anche una sculacciata come se stare in prossimità della spazzatura e far quello siamo sicuri che il cane comprenda per non parlare dell'esempio che ho detto prima dove addirittura vai a trascinare il cane sulla pipì oppure un cane che ha smontato un divano e tu prendi e lo porti sul divano e magari gli rovesci addosso tutta la tensione della tua giornata dove poi arrivi e ha avuto diversi centinaia di euro non più di danni da parte del cane e soprattutto ti tocca pulire ecco quei no quei dilieghi quelle aggressioni verbali se usciamo anche dalla dimensione del no dati retroattivamente secondo me sono uno scarico di frustrazione della persona e quelli sono i più pericolosi perché tendono a ledere la fiducia voi immaginate che arrivi qualcuno che che ha una relazione forte con voi e prenda e vi aggredisca verbalmente o fisicamente ma che voi non riusciate a capire il perché perché mi stai aggredendo perché addirittura arrivi a mettermi le mani addosso e comunque nonostante tutto io non riuscissi a capire a cosa tu ti stai riferendo cazzarola capite che è esattamente qui che si perde la fiducia perché tu a quel punto quando vedrai quella persona temi che ti possa aggredire perché perché ti ha aggredito magari dal suo punto di vista c'era una coerenza ma non ti è stata comunicata non ti è stato detto perché e siccome il cane e su questo ci siamo sbattuti tante volte a cercare di capirlo la comunicazione del cane è pragmatica cioè si fonda sulla prassi e la prassi è ciò che accade in quel momento quindi un cane quando comunica lo fa esattamente in quel momento e la traccia che lascia il cane non ha quanto quanto meno come dire il conteglio di pensare che sia un messaggio che verrà recepito a tempo di distanza se anche questo accade non importa al cane perché lui fa pipì perché in quel momento vuole farla rispetto a quell'odore ma anche se c'è un destinatario che è un interlocutore è un interlocutore x ipotetico quindi noi esseri umani parliamo del futuro parliamo del passato cioè siamo in grado attraverso il linguaggio di viaggiare nel tempo possiamo parlare di una situazione che avverrà tra cento anni come siamo in grado di parlare della nostra infanzia ma un cane a livello linguistico questo non lo può fare quindi il suo sistema mentale relazionale non prevede i viaggi in avanti e indietro quindi rispetto a un qualcosa che è accaduto o che dovrà accadere ma che non è nella sua portata linguistica non c'è possibilità di comunicazione io non mi posso incavolare con il cane per una cosa che ha fatto l'altro ieri con una persona sì gli dico guarda tu l'altro ieri hai fatto questo hai fatto questo 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 e questo la persona ti capisce e ti può incavolare ma col cane no e allora i no più gravosi sono quelli che hanno questa inopportunità tempistica poi ci sono quelli che sono dati in asimmetria rispetto all'importanza della situazione cioè tu stai facendo una cosa che io non gradisco e che è di gradiente di come dire non gradevolezza non opportunità due e tu rispondi con un no sei troppo cioè ti stai incavolando troppo troppo per una cosa che in fondo non determina ciò certo è tutto relativo però esiste anche un buonsenso cioè il cane ha rovesciato la spazzatura ha comunque rovesciato la spazzatura e quindi tu anche poi agisci retroattivamente e stai sbagliando perché non ce l'hai pizzicato o anche se ce lo stai pizzicando ma non puoi spaventarlo non puoi distruggerlo psicologicamente perché ha rovesciato la spazzatura perché in fondo è la spazzatura ok quindi cioè creare un sistema di eh dosaggio eh che deve essere calibrato cioè più è forte l'intenzione l'esplosività di un cane la sua eh eh come dire lo eh potenza intenzionale nel nel fare qualcosa che di cui io non sono d'accordo e più io dovrò intervenire con una forza uguale e contraria perché dovrò cogliere non solo il momento ma la forza quindi il cane parte velocemente verso qualcun altro per aggredirlo se io gli voglio dire no e non è che posso andare a moviola e dire scusa non lo fare no cioè devo farlo e andare lì e dire qui c'è un'argine ma se io entro con quella forza su una cosa che lui non sta esprimendo quella forza non sei adeguato quindi agire fuori tempo e agire con un dosaggio non opportuno ok poi soprattutto abusare perché abusare dei no e dei dineghi va a creare focalizzazione va a creare dimissione va a creare una relazione basata sulla competizione e conflitto quindi diciamo i rischi sono elevati nel percorrere una strada di no inopportuna ecco ok quindi abbiamo parlato di rischi e quindi dei problemi che potrebbe comportare questo questo no però parliamo invece dell'obiettivo più grande cioè l'obiettivo gli obiettivi che ci poniamo nel momento in cui noi agiamo come ediamo come proprietari di cani come genitori come in tutte quelle relazioni in cui abbiamo comunque la responsabilità su un soggetto che sia etica morale non solo civile e penale ecco una responsabilità verso la sua educazione verso la sua crescita quindi qual è l'obiettivo principale che ci possiamo porre lasciandoci la possibilità di dire di no al cane piuttosto che a un figlio allora questa è una bella domanda Anna perché i rischi ci sono soprattutto se non facciamo le cose bene ci sono dei guadagli dubbiamente allora io cosa guadaglio innanzitutto se do le indicazioni giuste ad un cane parlandogli a dire no guarda questo non lo fare perché non è possibile farlo e allora cosa guadaglio soprattutto se riesco a dire dei no che non necessariamente si basano sull'alternativa questo è un aspetto davvero secondo me importante noi abbiamo parlato di gestione della frustrazione ecco oggi credo che le persone si appoggino troppo al fatto che dico no ma ti do un'alternativa ecco lì non è un passaggio un passaggio necessario a volte cioè il cane si sta annoiando è cucciolo cucciolone si mette a mordicchiare qualcosa io ti dico guarda non lo fare però ti do un'alternativa però a volte per esempio il cane disturba a tavola ti dico no ma questo non vuol dire che io ti debba dare sempre un ossetto che io ti debba come dire in quel momento nutrire perché tu vuoi elemosinare qualcosa io non te lo do però ti do un'alternativa esattamente come non puoi andare da quel cane allora gioca con me non abbaiare in casa perché mi stai disturbando cioè stai disturbando non abbaiare perché adesso non usciamo però allora mi metto a giocare con te allora non sempre è opportuna l'alternativa allora quando noi riusciamo a costruire dei no dei diniechi che però sono dati con tutte le indicazioni precedenti e che conducono il soggetto all'accettazione di quello e alla calma noi stiamo guadagnando cosa? L'integrazione stiamo guadagnando il fatto che il cane si allinea alla tua vita e non impone la sua presenza gravosa su di te questo è sempre come dire difficile da stabilire perché bisogna capire quanto uno è pronto a barattare allora io penso che lo vedo con i miei amici che non hanno avuto cani e che poi hanno dei figli vedo qualcuno sbattere il muso forte perché non ti sei esercitato a capire quanto tollerare quanto non sprecare subito le cartucce dei no e quindi a quel punto te dirai troppi no sarai troppo insofferente quindi e perderai una relazione di integrazione allora sono quei genitori che mi dicono no non vengo a cena fuori perché c'è mio figlio e che vuol dire portalo no ma all'ora di cena è impossibile metterlo a tavola allora capisci che diventa problematico rispetto all'integrazione quindi ci guadagniamo sicuramente un livello di capirsi e quindi di coinvolgibilità io non mi pongo mai il problema se i miei cani sapranno stare in quella situazione forse anche per alcuni no che ho detto loro che non potevano fare quello e che l'alternativa non c'era in quel momento dovevano allinearsi e poi ti guadagli la maturità perché un soggetto che è integrabile è un soggetto che fa esperienza ed è un soggetto che diventa maturo e che quelli io vi dico che secondo me molte persone non hanno ancora apprezzato nonostante abbiano avuto o abbiano un cane quello che significa la relazione vera con un cane la relazione di un cane di cui ti fidi che è integrato e che capisce le situazioni si allinea a te è un cane capisci perché sono 15.000 anni che condividiamo una storia no perché perché il cane si allinea il cane vuole essere in allineamento con te invece io vedo troppe relazioni immature troppi cani immaturi che hanno bisogno del guinzaglio perché se no finiscono in mezzo di strada che hanno bisogno del guinzaglio se no combinano un pasticcio che hanno bisogno sempre delle indicazioni perché altrimenti non sanno cosa fare che non sanno rimanere fuori da un bar da un posto perché altrimenti muoiono cioè capito cali babbei esattamente come le persone ma questo perché però non che i cali che non sappiano fare quello che ho detto siano tutti babbei per dare un'immagine del fatto che se non hai dosato bene quella ginnastica tra dare fiducia e autonomia però dire no guarda questo no non ti guadagni la maturità del cane cioè non riesci a vedere dove il cane riesce stupirti in termini di allineamento che ti capisce e ti dice sì sì ho capito vai tranquillo ti ho capito perfettamente adesso facciamo questo e lo facciamo insieme e poi ti guadagni il rispetto perché se ci pensate chi è che dice no chi si mette in gioco se tu non lo dici mai no è perché hai paura di metterti in gioco perché non sbagli la mia nonna diceva le cose lo diceva in dialetto le cose succedono a chi le fa accadono a chi le fa se tu non le fai lo sbagli ok quindi sul no puoi fare degli errori sul dire no questo no non lo puoi sbagliare però il coraggio di decidere questo devi avere il coraggio di prendere delle decisioni e così se hai il coraggio di prendere delle decisioni il cane quantomeno avrai la possibilità che ti accrediti perché io vedo molti cani che mancano di rispetto alle persone ai contesti perché in fondo non sono stati mai guidati da qualcuno che ha detto no qua io ci tengo a farti capire che questa cosa non si può e l'essere umano tende a non implicarsi a non prendere delle decisioni perché ha paura di sbagliare attraverso questo si perde la chance di accreditamento principale del cane nei gruppi di cani randaggi chi è il leader chi decide chi si prende la responsabilità di dire ma si fa così e io suggerisco di fare così anche non è che ti obbligo a fare così io ti dico che è meglio fare così e lo faccio talmente tante volte mi prendo talmente tante volte la responsabilità che ti dico io scelgo di fare così vuoi scommettere che è meglio e quindi qui creo una pill quindi mi gioco un accreditamento chi non lo fa anche secondo me chi non pensa che il cane abbia l'intelligenza sufficiente per capirti ma che glielo dici a fare in quella situazione è un cane non capisce saltare addosso perché glielo dici non saltare ecco sull'abbaglio questo vado fuori il cane abbaglia senza sosta abbaglia e le persone dicono nulla ma perché non gli dici niente un cane abbaglia che vuol dire un cane abbaglia non vuol dire nulla perché il cane abbaglia perché sta esprimendo qualcosa certo se è notte il giardino è forse una battaglia persa dirgli no non abbagliare fai meglio a metterlo in casa questo è chiaro ma su altre situazioni credo che i cani abbiano molte più chance di capirti rispetto a quelle che tu pensi allora tu non intervieni e non dici no perché tu non credi nell'intelligenza del cane credi che è normale che faccia così perché è stupido un cane quindi no invece sforzatevi a farvi capire soprattutto quando la vostra idea non coincide con quella del cane perché il cane vi stupirà che se le cose che state dicendo sono motivate e hanno una ragionevolezza e vengono dette in modo opportuno il cane sta con noi perché ci vuole capire non perché ci vuole fare dispetto altrimenti si chiamerebbe lupo non cade quindi io credo che bisogna investire nell'intelligenza e nella parità io mi occupo di dirti no a te e di entrare scontro con te cane esattamente come con mia figlia perché non c'è differenza dal punto di vista affettivo ok questo e Vicky non ti sentiamo Davide me ne sono accorta scusate Davide noi ti tratterremo per ore perché è veramente interessante ovviamente come sempre chiaro e piacevole sentirti parlare specie di argomenti come questo ci tengo a sottolineare anche se non abbiamo il tempo di farti una domanda in questo senso però non se ne parla mai di questo aspetto quindi è importante che stasera tu abbia dato la disponibilità per farlo con noi proprio in una diretta di Dopocena Live e ti chiediamo per chiudere con Anna una cosa un po' particolare in che modo il tuo modo di concepire il no il diniego il disappunto lo scontro stiamo parlando di questo alla fine di entrare proprio dentro un conflitto di volontà quindi l'opposizione all'interno della relazione come si differenzia dalla tradizione addestrativa perdona questa domanda però è una domanda a cui teniamo molto io e Anna e penso ci tenga anche tu perché vorremmo proprio che tu dessi una tua lettura perché in questo percorso che noi abbiamo iniziato da tanto tempo da mesi insomma da più anni col Dopocena Live vogliamo proprio che emerga in modo chiaro un tuo punto di vista o un punto di vista specie il tuo proprio sulla pedagogia di carattere cognitivo o antropologico che è quella di cui noi parliamo quindi anche dentro un argomento che è il no quindi lo posiziona il cane lo scontro e vogliamo che emerga chiaramente proprio una posizione che disambigui in qualche modo su questo argomento che sino ad ora appunto se ne è parlato poco sembra un tabù l'hai detto anche tu all'inizio quello che forse è della comunicazione assertiva sì sì perché la faccio breve perché questo sarà uno dei loccioli anche del webinar dal mio punto di vista allora credo che sia uno scotto culturale che stiamo pagando ma credo che stiamo uscendo dal tunnel in qualche modo cioè tutti quelli che sono i movimenti che nascono in contrapposizione che tendono ad emanciparsi da qualcosa di precedente radicalizzano la come dire l'elemento opposto siccome l'addestramento non è stato assertivo ma è stato coercitivo cioè dobbiamo dire le cose come stanno nei campi di addestramento in Italia si fa l'elicottero con il cane che non è una cosa con gli ardhi si fa con qualcos'altro ma si prende il cane e lo fai roteare così con il collare a strangolo ok si fa l'inibizione all'esca con robe tremende peperoncino robe che creano disgusto dolore si usano i collari con le punte quindi quando tu cinofilia sei passata da queste barbarie te hai un problema a entrare in scontro con il cane perché come tu alzi la voce come tu ti incavoli con il cane ecco che c'è un riaggancio alla coercizione che è stata perpetrata sistematicamente dagli addestratori e che ad oggi ancora viene fatta nei campi di addestramento e chi dice il contrario sta dicendo una belzogna con questo non voglio dire che tutti quelli che si definiscono addestratori solo dei coercitori se tra il pubblico o chi ascolterà questa cosa c'è un addestratore che non si definisce tale si può star tranquillo perché deve fare i conti con la propria coscienza non con me ok però questo è accaduto e questo è stata la tecnica di addestramento nella cinofilia nel mondo e abbiamo visto addirittura Cesar Miglian andare alla ribalta delle serie più seguite nel mondo con sistemi coercitivi dove si vieta a un cane con il colare strangolo e questa è la cosa minore di annusare e pisciare per strada ok allora quando tu vai a dire no questo non lo fare e ti può capitare e può essere che si necessita di una comunicazione non verbale verbale di forte intenzionalità reattiva perché abbiamo detto essere come dire dobbiamo livellarci su quelli che sono i livelli del cane perché se il cane parte con una potenza 10 e io vado con una potenza 2 comunicativa non arrivo il cane non mi vedo non mi sente ok allora lì stiamo entrando in un terreno dove chi è dentro soprattutto a questo movimento ti dice ma allora mi posso incavolare con il cane perché non è che se mi incavolo poi finisco per essere associato alla destra dove oppure creo quel sistema e questa è una domanda legittima e giusta secondo me quando si esercita una comunicazione assertiva laddove con l'assertività si intende chiarezza efficacia e autorevolezza non vessazione beh bisogna capire se lo sto facendo sul soggetto giusto al momento giusto quindi noi paghiamo la difficoltà di entrare sul terreno perché quel terreno è stato completamente abusato precedentemente però esistono delle caratteristiche dal mio punto di vista completamente diverse della modalità che io ritengo giusta di intervenire dove è previsto anche un confronto che però è sempre basato sull'adeguatezza l'adeguatezza al soggetto chi è quel soggetto che tipo di comunicazione ha è un cane che si caga sotto se sente una foglia cadere oppure è un cane fiducioso nei confronti delle persone perché cambia l'universo è un cane che quando è partito sull'iniziativa chiude il cervello e non ascolta più o un cane che comunque anche quando parte su qualcosa uno spazio per riconnettersi ce lo ha perché una grande arte di chi decide di aprire la relazione all'intero ventaglio delle emozioni è anche quando è quello di capire quando un cane ha deciso di fare qualcosa lascia stare perché non c'è verso di intervenire lì cioè se un cane mi tira giù le orecchie indietro inizia a a camminare velocemente con il passo veloce perché ha discollesso il cervello e ha una paura ha un disagio ha una difficoltà ha un'erausa alto e io è inutile che continuo a fermarmi a tirare il guinzaglio a dirgli no perché quello ha scollesso il cervello quindi basta devi acconsentire e basta e devi uscire da quella situazione il cane è partito ad abbagliare come un pazzo non è in un momento di rabbia totale nei confronti di un altro puoi sparare una bomba a mano ma tanto non ti ascolta e allora devi contenere gogliare il rospo e capire come intervenire in anticipo le prossime volte ci sono delle situazioni dove dobbiamo lasciare andare non possiamo pensare che l'assertività possa raggiungere qualsiasi cosa ok quindi è importante basarci però sulla comunicazione del cane qualsiasi intervento non va fatto attraverso la preponderanza di uno strumento e con l'area a triangolo gli oggetti che offendono se tu vuoi giocarti un diliego te lo giochi attraverso le traiettorie le tempistiche le dinamiche le strutture comunicative della comunicazione del cane vuoi dire a un cane di non andare da qualche parte mettiti in mezzo guardalo cerca di dire oh basta non lo fare non che metto il collare elettrico e poi quando il cane raggiunge una certa soglia bang con l'area elettrico perché questa è messazione perché questo è appoggiarsi esclusivamente a uno strumento non è giocarsi l'intervento su un piano relazionale comunicativo allora tutto quello che facciamo in questo senso è legittimo in termini di adeguatezza opportunità calibrare il livello di comunicazione capire chi è il soggetto capire quanto posso spingermi in là oppure no capire quando mollare capire quando cedere capire quando farci sulla risata e non arrabbiarsi rispetto a un qualcosa che ha combinato il cane ma soprattutto quando si interviene si interviene dentro una struttura comunicativa che il cane può comprendere perché sto lavorando su traiettorie prossemiche posture tempistiche che fanno parte della sua comunicazione non di bagianate come otto sit foods plats e dei comandi che vanno a inibire il soggetto perché ho costruito quell'elibizione su un campo di addestramento vessando il cane quando non c'era necessità di fare grazie davide sei stato chiaro perdonaci per questa domanda in chiusura però era fondamentale per me per Anna ne parleremo perché questo secondo me sul webinar è veramente importante perché purtroppo si è detto e si dice troppe volte da parte di male lingue che l'approccio cognitivo è una roba sia da femmine da femminucce e infatti i corsi sono seguiti prevalentemente da donne come se i problemi comportamentali si debbano risolvere con l'uso della forza e quindi solo maci bianchi alfa possono riuscire e poi sul fatto è un approccio per barboncini quando invece non è così e lo dimostra il lavoro che facciamo tutti noi tutti i giorni per cui nemmeno sto a dire con chi lavoriamo perché questo sarebbe scegliere su un livello basso che non ci appartiene esattamente allora noi ci sono delle domande a cui purtroppo non siamo riusciti a rispondere stasera perché comunque il tempo è tiranno e anche noi volevamo comunque che David tirasse fuori determinati concetti e ci desse delle informazioni delle sue impressioni questo per noi stasera era fondamentale anche perché questo comunque è un argomento che lui ha già affrontato anche nei mesi passati con dei webinar quindi noi stasera per chi ancora non ha avuto la possibilità o comunque magari anche non è interessato al webinar volevamo che fosse un messaggio chiaro perché questo è l'intento del Dopocena Live mettere a conoscenza di tutti quindi voi che ci seguite ormai lo sapete e questo era ciò che volevamo che arrivasse stasera quindi grazie David grazie a tutti voi che stasera avete partecipato con tanto interesse con le vostre domande noi siamo sempre molto felici di questo e stasera ha anticipato David più volte io e Anna ce la rilevamo un argomento che affronteremo la settimana prossima involontariamente David non lo sa quindi è una sorpresa anche per lui però come nostra consuetudine diamo l'appuntamento per il prossimo dopo c'è la live un attimo solo che tolgo i commenti e parleremo di una cosa sfiorata stasera che è l'arte dell'accreditamento Anna wow sì sì la settimana prossima sempre ti troveremo il giovedì sera il giovedì 16 febbraio sempre puntuale alle 2045 in compagnia di Thomas Thomas Pirani per una serata in cui puntuale dell'arte di accreditarsi con il proprio cane quindi una diretta che avevamo in mente da tantissimo tempo con Anna Thomas ha accolto questa proposta come tu hai accolto le altre proposte quindi sembra incredibile perché non era studiato di metterle in maniera propedeutica conseguenziale però casualmente c'è questa questa ma non mi stupisce perché Thomas tra l'altro oltre ad essere un collega è anche un amico con il quale ho condiviso un lungo pezzo di storia di cinofilia e so bellissimo come la pensa e e daula quindi uno stile poi tutto suo nel declinare tutto ciò che vi ho detto quindi è sicuramente interessante e anche diverso una declinazione ancora diversa ma che va esattamente nella stessa direzione e nasce dallo stesso solco per cui è proprio congruo con il mio stile quindi evidentemente questa collezione c'è perché veniamo insomma dalla stessa percorso quindi salutatemelo e siateci perché sicuramente vi piacerà benissimo allora noi ringraziamo ancora tutti quanti e vi ricordiamo che poi manderemo domani nella nella pagina insomma tutto quanto riguarda i webinar di cui vi abbiamo parlato con David per il mese di marzo quindi lo ringraziamo e ringraziamo tutti voi vi diamo la buonanotte buonanotte ciao ragazzi e ciao ragazzi ciao a tutti e a tutte buona serata buonanotte divertitevi ciao ciao